Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Io sono sempre Grouchard Sphere ed oggi andremo a pulire il SUV. Prima di iniziare ti ricordo come sempre di mettere un mi piace al video, di iscriverti al canale, di condividerlo e di commentare facendomi sapere cosa ne pensi tu di questo gioco. Ed ora andiamo a vedere cosa ha Bat Ryerson per noi. Il mio povero SUV! Guarda in che stato è! Ho lasciato il bambino alla scuola materna solo per scoprire che la polizia aveva chiuso la strada che attraversava il parco nazionale. Così, per tornare a casa, ho dovuto prendere delle strade sterrate. Trixie non è adatta a strade del genere. Ti prego, falle ritrovare il suo splendore. Xoxo, baci, baci, baci. Ok? Allora, andiamo. Facciamo questo lavoro. Allora, ruoto gel aggiunge detergente. R. Eh, io vorrei aggiungere detergente sinceramente. Seleziona sapone, seleziona prunga, seleziona ugello, mostra sporco, cammina, accovaciti, ruota e attrezzatura. Va bene. Ma non posso aggiungere il detergente. È una bugia! È una bugia! Allora, non ci sono obiettivi in questa mappa, quindi possiamo pulire un po' quello che vogliamo. Andiamo subito a pulire tutto lo sub. Vi ricordo che durante il video parlerò poco per farvi godere appieno della ASMR che si crea di questa idropulitrice e dallo sporco che se ne va. Anche perché da commentare c'è ben poco. Allora, un po' di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo impiegato davvero molto poco a pulire questo SUV, non c'era praticamente nessuna incrostazione. Oh che splendore, giusto in tempo per andare a prendere le ragazze. Grazie millissime, baci baci. Ok, appunto non c'era sporco particolarmente ostinato, era tutto abbastanza raggiungibile facilmente, quindi easy. Ah, dovremmo pulire un biciclo? Però nella prossima puntata faremo l'elicottero dei pompieri, quindi non perdetela perché questo episodio finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Gratualsphere è tutto, al prossimo video.